Tainted Grave Fall of Avalon è un GDR d'azione open world in prima persona, ambientato in un mondo che ricorda ovviamente molto quello di Skyrim, ma in una versione decisamente più dark, cosa che a me in realtà piace molto. Oggi ve ne parlo dopo averlo giocato per 5-6 ore, perché nonostante il gioco sia in early access, con tutto ciò che ne deriva, credo ci sia materiale per un titolo che alla release sarà interessante e mi pare giusto segnalarvelo. Vi dico però che questo gioco sta avendo tanta pubblicità da parte di un sacco di youtuber e streamer italiani e non, e che ne stanno parlando un po' troppo affrettatamente secondo me, frettolosamente, perché il gioco al momento secondo me non è in uno stato così buono per cui io mi sento di consigliarvi l'acquisto, però seguite il video perché voglio che capiate esattamente cosa intendo. Prima di iniziare vi ricordo che vado in live su Twitch praticamente tutti i giorni, trovate il link ovviamente in descrizione, e a questo proposito commentate una volta visto il video facendomi sapere se volete che io vi porti il gioco in live, così gli diamo un'occhiata insieme. Fatemelo sapere, io ovviamente poi terrò in considerazione tutte le vostre risposte, adesso iniziamo a parlarne. A livello visivo il gioco è decisamente retro, ovviamente per questioni di budget, e dunque lo stile estetico non sarà certamente per tutti, ma devo dirvi che nonostante i suoi limiti grafici, riesce a farci immergere in un'atmosfera abbastanza intensa, cosa che non mi aspettavo. In effetti il gioco è ispirato a livello artistico, in una prima fase iniziale c'è un momento addirittura in cui mi è sembrato un po' di stare a fare un mazula per chi avesse giocato Elden Ring. Quell'ambientazione è stata molto suggestiva, ma anche l'open world in realtà lo è. Nella distanza si intravedono edifici intriganti, no? Che non vediamo l'ora di raggiungere. Ci imbatteremo poi in rovine, accampamenti, statue giganti, tutti elementi che ci danno la sensazione di star giocando in un mondo che ha una sua identità, un suo carattere. E questo aspetto, a mio avviso, è sempre molto importante in un gioco. Certo, molte caratteristiche sono state direttamente ispirate da Skyrim, come vedremo, ma ci sono parecchi elementi di novità che danno al gioco una personalità e un tono tutti suoi. L'attenzione ai dettagli nel design delle ambientazioni, per esempio, è chiarissima. Il team vuole proprio dare al giocatore la percezione di verosimiglianza, di realismo, e ci riesce abbastanza bene per quanto visto. Il gioco fa anche un buon lavoro con l'environmental storytelling, cosa che si nota già dall'inizio, e combina questa modalità narrativa con un più classico, trova il documento, leggi il documento. Ad ogni modo, la storia e la lore del gioco ci sono. La storia è un'interpretazione in chiave dark della leggenda di Re Artù, e pensate che Tainted Grailed Fall of Avalon è un gioco basato su un GDR da tavolo dello stesso nome. Dunque, è ovvio che sia abbastanza strutturato dal punto di vista del world building. Per quanto riguarda poi la scrittura nel micro, i dialoghi sono buoni, ma a livello di stile mi sembrano un po' troppo moderni. In certi momenti sembra di star sentendo parlare un americano, si utilizzano molte imprecazioni ed espressioni tipiche della contemporaneità in realtà, e devo dire che questo aspetto non mi è piaciuto molto. Il gioco, ragazzi, è solo in inglese, purtroppo, ma c'è da dire che si sono impegnati parecchio anche nel doppiaggio, infatti tutti i personaggi parlano, e il doppiaggio non è male. Continuando a parlare un po' del sound, devo dire che all'inizio la colonna sonora mi ha impressionato. È dark, è misteriosa, ed è importante nel farci sentire parte di un mondo oscuro, però dopo qualche ora viene fuori un po' di ripetitività. Ecco, secondo me serve un po' più di varietà, servono più tracce, semplicemente, ma lo stile c'è, è quello giusto. Il sound design pure non è male, ma non aspettatevi degli effetti da gioco AAA, perché ricordatevi che questo è un gioco che costa 25€ a basso budget. Il gameplay non è male, ma è evidente che si tratta di un prodotto in early access. L'esplorazione è interessante, è gustosa, sia nell'open world che all'interno dei vari edifici che potremo esplorare. C'è sempre un sacco di roba da poter raccogliere e con la quale poter interagire, e il level design dell'open world è abbastanza buono. L'IA purtroppo è davvero poco, poco, poco reattiva, ed è un po' un peccato perché effettivamente a volte questa mancanza si fa sentire. Sembra proprio di star giocando ad un gioco del 2000, ecco, per farvi capire. A volte i nemici si buggano e non reagiscono nemmeno ai nostri colpi, eppure gli NPC con i quali possiamo parlare non è che facciano molto, o è, tranne che stare lì ad aspettarci. Ecco, questo a mio avviso è un problema, che influenza negativamente l'immersività. Nell'early access non potremo esplorare tutta la mappa, ma solo un pezzo, sebbene potremo esplorarlo liberamente. I nemici hanno livelli fissi, non scalano con il nostro livello, dunque fate attenzione perché potreste trovare NPC che vi shottano. A me questo sistema di gestione della progressione piace. Il combat di Tainted Grail è semplice, attacco leggero, attacco pesante, parata, schivata e parry. C'è un sistema di stealth, si possono usare armi dalla distanza come l'arco, ci sono armi a due mani e a una mano, e avremo anche accesso a delle magie, in realtà nell'early access ce ne sono parecchie. Il consumo di stamina è altissimo, dunque bisogna davvero stare attenti con il posizionamento, l'utilizzo di schivate e di attacchi per non rischiare di rimanere senza stamina. Anche il mana si consuma super velocemente e a differenza della stamina non si rigenera con facilità, dunque il combattimento corpo a corpo sarà la vostra arma migliore e ogni tanto potremo anche aiutarci con delle spell. Le hitbox sono un po' imprecise, le animazioni pure non sono granché, sono troppo lente, e il feedback dei colpi e la loro fisica non sono molto soddisfacenti. Queste tre cose sono dei problemi abbastanza gravi a mio avviso. Da questo punto di vista il gioco deve migliorare assolutamente. Inoltre io bilancerei il combattimento in maniera differente, mi piacerebbe, dal momento che il parry c'è ed è veramente molto utile, un combattimento che non ricalchi così da vicino quello di Skyrim, che ormai è anche un po' vecchio, in cui arretri, attacchi, arretri, attacchi e così via all'infinito. Sarebbe interessante dare più stamina ai giocatori per permettere loro di rimanere nel combattimento vicino ai nemici, parare e perriare di più, e allontanarsi solo quando davvero non c'è altra via d'uscita. Invece al momento si combatte davvero tanto alternando attacco e corsa all'indietro, e la cosa non è super soddisfacente secondo me. C'è sicuramente margine di miglioramento, e attenzione, il che è ottimo, perché magari alla release verrà fuori un buon gioco a basso budget. La parte GDR del gioco è discreta, ma a mio avviso va migliorata anche questa. Combattendo possiamo fare level up e investire dei punti nei vari attributi, ma avremo anche degli skill points da investire invece nelle abilità, nelle skills. Ecco, purtroppo le abilità sono in realtà tutte abilità passive, dunque il combat non progredisce in termini di complessità, non aggiungiamo tipi di attacchi al nostro arsenale. Come statistiche abbiamo le classiche, forza, destrezza, endurance che regola vita e stamina, practicality che è connessa allo stealth e ai critici, e spirituality per la magia. Niente di che, una roba molto classica e senza quel quid che ti fa dire figa sta roba, no? Un po' una cosa noiosa già vista. Una cosa interessante presa da Skyrim è la possibilità di aumentare la nostra abilità in qualunque cosa, semplicemente facendola. Se volete diventare forti con le armi a due mani, basta usarle, ad esempio. Il problema è che questo fattore non sembra aver molta rilevanza nel gameplay per l'early access, ma magari, gioco completo, progredendo e accumulando livelli su livelli, vedremo una maggiore influenza di questo sistema, il che non mi dispiacerebbe. La parte meglio riuscita della progressione per questo early access è quella relativa all'equipaggiamento. I nemici possono droppare le armi e le armature che stanno usando, e dunque avremo accesso ad una buona varietà di equipaggiamento tra cui scegliere. E devo dire che equipaggiare un oggetto più potente fa davvero la differenza, ma veramente tanto, molto più di un level up, ad esempio. Quindi da questo punto di vista il gioco è buono. Le scelte nei dialoghi le ho trovate interessanti, perché effettivamente sembra che le risposte degli NPC cambino un po' a seconda del nostro tono e di come scegliamo di comunicare. Però, per poterlo dire effettivamente, serve del tempo in più, e servono anche più playthrough, perché altrimenti è impossibile verificare questa cosa. Quindi diffidate da chiunque vi dica, secondo me, le scelte dei dialoghi sono rilevanti, perché fino a che non hai giocato il gioco più di una volta, non puoi effettivamente dirlo. Anche le performance, purtroppo, non sono granché. Nell'open world spesso si verificano cali di frame o stuttering, anche se hanno già fatto uscire una patch in realtà, che ha migliorato un po' il problema, eh. Dunque mi aspetto che la questione venga risolta con delle prossime patch. Allora, Tainted Grail The Fall of Avalon è sicuramente un gioco che è stato pensato per chi ama Skyrim e per chi vuole un gioco a la Skyrim, in stile Skyrim, ma ha anche delle idee sue. Al momento, però, io non vi consiglio l'acquisto di Tainted Grail The Fall of Avalon, perché è in uno stato troppo grezzo. Compratelo solo se volete dare sostegno agli sviluppatori, perché possano continuare a lavorare sul gioco e fornirci poi, al momento della release, un buon prodotto. Però, nonostante i difetti che ha, è un prodotto interessante che continuerò a seguire e vi avviserò quando sarà, e se sarà, il momento giusto per dargli una chance. Io vi ringrazio per aver visto il video e come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao raga!